Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, 25 di luglio, ho saputo che due anni fa era stata la scomparsa di Roberto Draghetti. Roberto Draghetti era stato un doppiettore ed è un personaggio famoso di film e dei vari cartoni. Purtroppo Roberto Draghetti è morto da due anni fa, il 24 luglio del 2020. Ed è nato il 24 agosto, ora vediamo. Hey Google, Roberto Draghetti, la data di nascita. È nato il 24 agosto del 1960 ed era stato un doppiettore famoso. Vedete? Eccolo qua da giovane, che purtroppo è morto il nostro doppiatore. Ecco, vediamo i film del cinema. Ha fatto anche tutto. Ha fatto pure Spider-Man 2, ha doppiato. Poi Fantastici 4, Family Man, Daddy's Home. Ha doppiato tutto. E ora passiamo ai film d'animazione, i vari. Abbiamo Black Cap in Co che arrivo da un mare lontano. Skitter Valentin in Dog Film, Ben in Pocahontas, Brutoldo nel Gobbo di Notre Dame, Dim in Abbax Life Mega Mini Mondo, Buster parte parlata nell'Ill'Il Vagabundo 2, Il Cucciolo Ribelle, Beppo in Pinguini alla Riscossa, Levin in Giuseppe in Re dei Sogni, Padre di Perla in Alla Ricerca di Nemo, Ten in Bionessi, Cold Mask of Light, Narratore in Pokémon, Nella Trilogia di Pokémon, Terrorista in Ceciano, Terrorista in Team America, Morisi in Madagascar, c'era anche nel primo, nel secondo e nel terzo. Re di Ingari nel castello di Arendt di Aul, Dokujakugi in Sayuki Requiem, Ishikawa in Ghost in the Shell, L'attacco dei Cyborg, Arpio in Giù per il Tubo, Dark Horse in Arturo e il Popolo di Mimei, Goli nella Tela di Carlotta, Olaf, Brain di Buff in Axerix e i Vichinghi, Alfred in Topolino, Marty e la Fabrica di Perle, Cash in Ored e Tobi nei Mici Amici 2, Franky in Nome in Codice in Brutto Anatroccolo, L'Orso Gelsomino di Paperino, in Paperino Torna a Casa, L'Orso Gelsomino di Paperino Torna a Casa, Ray Ray nella Sidretta quando tutto ebbe inizio, Barone e Mordo in Dottor Strange, il Mago Supremo, poi altra versione di Morissi in Madagascar 2 e Madagascar 3, Diavolo e Codiavolo nei Lissi Principessa della Riscossa, Presidente Shea in Battaglia per la Terra 3D, Her the Diverhouse nella Trilogia di Piovono Polpette, James nella Principessa in Ranocchio, Shaun is World of the Stranger, Stocchi l'Immenso nella Trilogia di Dragon Trainer, Von Nebula in Lego Hero Factory, Bandito Bill in Rango, Pirata in Space Dog, Hulk in Planet Hulk, Tishala e Pantera Nera in Ultimate Avengers 2, Rass Asgall in Batsman Under the Red Hood, Marcel in Rio, Kruka in Lego Ninjako Master of Spicizzo, Kaliko in Cagni e Gatti la Vendetta di Kitty, Maestrorino in Kufu Panda 2, Darkus in Arthur e la Guardra dei Due Mondi, Pirata Miccio in Pirati Sbriganti da Strapazzo, Lucifero in Dante Inferno Unanimated Epic, Balok in Fire Braider, Akio Kazama in La Collina dei Papaveri, Sarco in Dino e la Macchina del Tempo, Amici Nemici e l'Aventura di Gavin May, in Voce di Giro Gil, Sarco di Dino e la Macchina del Tempo, Johnny Haley Day, Titao Fil Filme, Seko in Cuba, Hey in Mr. P, Body e Sherman, Ishaq in Seconda Edizione di Ghost in The Shadow Spiritone e Guscio, Fortunello in NotJob Operazione Noccioline, Gran Consigliere Ottomo, La Storia della Principessa Splendente, Abra Corsi in Asterix e Regno degli Dei, Kai in Cufu Panda 3, Gavin nell'Era Glaciale in Rotta di Collisione, Jesper in Cicconi e Missioni, Miguel in Vita da Giungla la Riscossa e Film, Ruccheri in Vampiretto, Il Capo dei Pirati nel Leo Da Vinci Missione Mona Lisa, Zio Alfredo in Molly Monster and Movie, Hal in Zanna Bianca, Biscotto in Buffett Biscotto Missione Spaziale, Automatiz in Asterix e Il Segreto della Pozione Magica, Quei Rozz in Ancora Un Giorno, Mushiban in Jesperti 5 Go Go, Buon Compleano Carissima Nozzomi, Douglas Bullet in One Piece Stampede il Film, Nathan in Deep Un'Avventura in Fondo al Mare, Gorilla Groot in Batman Ninja, Shadow in Ploi, Galerotti in Ninokuni, Arkrit in Un'Avventura Graciale e Voce di Dusty, Vitro Trash la Leggente della Piramide Magica, Presidente in Lue la Città delle Sirene, Hugo Tennoji Steins Gate, The Movie Lord Region of the Dacia Wu, e poi Cortometracci and Job in the Fats, e poi forziamo i cartoni, abbiamo Lenny Leonard, seconda voce, Tony Ciccone, sovrintendente, che c'è il Mersult, ultima voce, Serpe, ultima voce in Simpson, nei Simpson, Chef, ha accesso a tutto reality l'isola, a tutto reality l'azione, a tutto reality il tour, a tutto reality la vendetta dell'isola, a tutto reality All Stars, e a tutto reality l'isola di Pakitev, Chef, ha accesso a tutto reality le origini, Terry Kimple in The Cleveland Show, Stoic in Dragon's Ikehari di Berk, Tenzin in La Leggente di Korra, Eddie in Edd ed Eddie, Liod nello spazio in Boomer, Klaus Boomer in Liod nello spazio, poi Battle Force 5, Cap Canus in Atwills, Sharkan nel Libro della Giungla del 2009, a cartone, Dottor Peterson nelle avventure di Superman, Roger Darlin in La Carica dei 101, la serie, Mata Reis, che ha metto la sirenetta alle nuove avventure marine di Ariel, Maurice nei Pinguini di Madagascar, Cyborg in Teen Titans, in Teen Titans, il President Cina Hill, Eruptor in Skylanders Academy, Eruptor il mio preferito, Captivo in Star Wars Clone Wars, Billy Stamps in Magnus Ikehari, 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 Aspirante su Stuntam, Voltix Lego Hero Factory, Crucia in Lego Ninja Go Master of Spinjitzu, Sancti Tifer in Billy the Cuts in seconda edizione, Proffa e Riblock in Evolution la serie animata, Catelyn il mondo di Quest, Starscream, Transformer Energon, Transformer Sabetron, Gustam in Mega Man, in Tuvarium, Senior Green in Hea Arnold, Michele invita ad aggiungere la riscossa, Fimber Rod Ruba Dappers, Norate in Galactic Football, Elefante in Tinga Tinga Tails, Albert la stravagante famiglia Ode, Wallace Morton in Uovo Invisibile, Grande Aquila in Gli Accari 2005, e poi doppiato altri cartoni, poi abbiamo Voci Narrati in Mad Moose, e poi Pucca, ha doppiato tutto, Scorpion, e Direzione del Doppiaggio, e la pubblicità, e il teatro, i regi, gli otto grandi serenali 2014, con le due a Rostoparciaro e Lidia Perrone, altrettanto Sestaccio di Roma, e niente, purtroppo è morto questo doppiatore, e niente, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!